Ciao ragazzi! Fala galera! Ciao ragazzi! Faccio un attimo una premessa di un minuto in inglese e poi torno a parlare in italiano Quindi ragazzi, oggi abbiamo la possibilità di fare un'auto premiera e oggi possiamo chiedere il nostro carattolo Quindi ragazzi, vi consiglio di usare la versione muscoli del dominatore, la versione del carattolo Quindi la versione del tournette e potete ottenere il free se si trasferisce dal PS3 al PS4 E potete ottenere il gauntlet, il stallion e il dominatore E il dominatore è l'unico car che può competere con il dominatore, è il sabre turbo Quindi ragazzi, io credo che se vi guardate sul leaderboard dei record di questa rai, il dominatore è dominato E potete ottenere questa rai tra il tuo cell phone in giro O in il medio della map di downtown Los Santos quindi trovolte per il tuo peso speciale Tutto fondamentale Potete ottenere per il 8000 euro e in dall'anno e ovviamente se avete finito insieme alla seconda posizione o terceira posizione o 4 a 5 lodge sendsers mer clicza Quindi tu avessi di questa rai e per ogni giorno avremo una nuova gara con una categoria diversa di carri o motos la categoria che si usano sono queste qui le muscle cars ragazzi praticamente voi potete avere gratis se avete fatto il trasferimento da ps3 a ps4 del vostro account potete avere gratis le 3 muscle car personalizzate quelle che si usano in single player con Franklin diciamo e sono la stallion la gauntlet e la dominator la dominator ragazzi è la migliore è la migliore auto perché praticamente è la più veloce ed è una se la riuscita a mano ora è bene è una delle veramente delle migliori quindi raga io vi consiglio di modificarla e di cercare di vincere questa gara perché praticamente sono 100.000 che voi potete prendere ogni ora e non è male non ha fatto male raga anzi io vi consiglio di prenderla al più presto e cercare di migliorare ecco ragazzi praticamente ve la consiglio assolutamente perché gareggia molto bene l'unica auto che può diciamo competere con essa è la sabre turbo se diciamo guidata bene però se voi andate a vedere la race board diciamo la classifica la leader board dei world record diciamo la dominator è praticamente l'auto migliore che c'è quindi vi consiglio di usare quella per personalizzarla penso che spenderete comunque un centinaio di euro sfruttate questo momento perché magari vi potrà servire in futuro e tutto questo questo è tutto ragazzi io poi ho venduto la dominator vecchia quindi mi sono fatto un po' di soldini con quella e ci ho recuperato e ogni ora cerco di vincere questa gara quasi sempre ci sto riuscendo ecco non ho fatto 3 non ho vinto 3 volte questo è tutto ragazzi ci vediamo al prossimo video vi ringrazio vi ringrazio